Ehi, ciao a tutti i supereroi. Allora, siamo su Adopt Me. Allora, come vedete... Aspetta, adesso vi faccio vedere. Questo è, possiamo dire, il pezzo forte, ecco. E infatti, anche... Il 1245 euro. 1450 euro. Abbiamo compiato il 30 soldi. Ecco, infatti, già da i suoi frutti. È ovvio, l'abbiamo fatto off camera, perché stiamo l'anno prossimo. Abbiamo recuperato i soldi in video, però l'abbiamo comprato il 30 soldi. Sì, alla fine sì. Infatti, qua abbiamo usato ovviamente il baby. Io ho fatto diventare pure Fully Grow il mio bellissimo Fennec. Infatti, non lo sto usando, perché è Fully Grow. Allora, 145. Lui ancora non l'ha comprato. Io invece l'ho comprato e già sta fruttando. Poi, alla fine del video, vediamo quanto ha fruttato in tutto. Adesso, usciamo e facciamo un po' di soldini. Allora, io creo la Family, creo. Qua c'è... Vabbè, prima ha giocato una mia amica. Ok, ti invito nella Family. Allora, lui ancora non l'ha comprato il monetary. Infatti, a casa sua ancora non c'è, però lo prenderà ovviamente. Vero? Sì. Vabbè, comunque io ho farmato una brutta bestia. Lui, vabbè, era un po' più lentino. Io invece andavo un po' veloce, però comunque... Lo comprerà anche lui. Allora, andiamo a farci doccia e dormire. Siamo vicini per nostra fortuna. Almeno abbiamo avuto un po' di fortuna per diventare vicini. Almeno non dobbiamo... Non devo fare i big giri. Allora... Sì, infatti. Allora... Andiamo qui. Allora, faccio la doccia al chic. E mi faccio il bagnetto io e ha pure fame il chic. Mamma mia. Devo fare 30 cose, Gabri. Io mi devo fare... La... Il bagno. Sì, infatti. Pure io mi devo fare sia la... Ovviamente ci siamo mezzi piccolini per fare qualche altro soldino che me ne vorrei prendere anche un altro. Ovviamente con... Gabri, il mio bufalo si chiamava bufalo. Adesso lo chiamano Timoti Junior. Anche se mi accopiate il nome e mi dà un po' fastidio sta cosa. Ok, ma ti vuoi decidere? Super Gilchino, chi non lo volevi? Adesso non c'ho Timoti Junior, cioè che non ci andava. Non mi censurava Roblox. Ah? Maggià Roblox, vabbè. Comunque... Io dovrei mo' chiamare il mio bellissimo e simpaticissimo Fennec. Lo dovrei chiamare Super Senior. Perché Senior è per quando è grande qualcosa. Quindi dovrei chiamarlo Senior. Comunque dobbiamo andare al Playground, Gabri. Io mi sto avviando per il Playground. Questa è la mia bellissima motoricicletta. Motorina. Motorino. Aiuto. Aiuto. Fuori controllo. Ok. Che è successo? Era un po' fuori controllo la moto. Comunque aspetta che poi si bugga. E fallo bere a casa mia. Tanto casa mia c'è l'abbeveratorio e il mangiatorio. L'ho messo a caso. No, la ho comprato un sacco di bottiglie. Ok. No, io le bottigliette le uso per me. Poi il Cheek lo faccio bere a casa. Mi faccio fare sto cosa. Mi faccio fare. Non mi piace. Just human. Andiamo. Ah, ce la fa. Oh, prima non ce la faceva. Just. Aspetta. Just barra. Oh, ma sa fare tutto il mio Cheek. Sa fare tutto. Aspetta. Cheek. No, io non mi sono buggato. Cheek. E' un po' smarrito il mio Cheek. Basta. Basta Cheek. Aspetta. Ok. Ok. Allora, non siamo annoiati né io né Cheek. Quindi non teniamo niente da fare. Perché alla fine i video di Adopt Me sono così. Non abbiamo niente da fare. Quindi andrò in giro. Allora, mi vado a fare un po' di scorte mediche. Quindi dovremmo fare un po' di scorte mediche. Sì. Faremo anche su uno che è un gioco che ho scoperto. Che è Gabriele Giocava. Assassin. Assassin. Che è molto bello. Cioè, io ho già vinto due volte. Cioè, sono fortissimo a quel gioco. Comunque... Comunque... Vado a scuola perché, ragazzi, dovete sapere che a scuola ci stanno le mele della maestra. E ho sete. Food. Acqua. Ho finito le scorte idriche. Le scorte d'acqua. Vabbè, me le vado a comprare. Vado a comprare l'acqua. E vai, qua la regia alza il volume della televisione. Che è proprio... Neanche Cristiano Ronaldo, boh, a caso. Ho detto Cristiano Ronaldo. Comunque vado a prendere le bottigliette d'acqua che mi servono. Comunque, sull'altro account, su mio vecchio account, avevo su Adopt.me, avevo un regalo della mia amica Aurora. Che era tipo una surfboard. La è la cosa per andare sul surf. Per surfare. L'avevo, poi, ovviamente, con il cam... E, boh, mi incarto. Hashtag Gabriele incartatora. Ti dobbiamo stare attorno perché sto comprando anche dei meloni. Non mi piace la cosa. Ok, ho fatto un po' di scorta. E mi sono comprato dei meloni. A caso. Ok, comunque, ragazzi... Quando costava il cosa? Il cosa? Il cosa? Eh, quello non hai il gigasso. 1450. Lo so, è una truffa. Comunque, poi, alla fine del video lo... Comunque, ragazzi, cercheremo di accorciare un po' il video perché, comunque... Escono lunghissime ed è normale che non ve li vedete. E posso pure capirlo, eh. Neanche io mi vedrei i video così tanto lunghi. Cioè, veramente, sono lunghissimi. Quindi cercheremo di accorciarli. Mi hanno capito i video di Lion, ma lunghi, tu non li vedi. No, no, no. Io me li vedo i video di Lion. E vabbè, ma noi li facciamo di mezz'ora, un'ora arriva. Certe volte, fra un po', arriveremo a un'ora. Invece vorrei stare nei budget. Quindi, tipo, 20 minuti. Massimo 25. Perché, sennò, è ovvio che le persone non se lo vedono. E c'hanno pure ragione, eh. Ma se tutti i video sono lunghi. Eh, vabbè, però io prima li facevo molto più corti. Oh, è notte, finalmente. Ma se non li stai facendo più lunghi. Sì, infatti, molto più lunghi. Ma lo so com'è che la scheda a video riesce a resistere. Non lo so. Spero che la scheda a video rimarrà sempre così. Comunque, ragazzi, siamo già a 10 minuti di video, fra un po'. Cercheremo di accorciare, ragazzi. Cercheremo, però io non so tagliare. Poi, qua, prolungiamo sempre di più. Qui cercherò di farli più corti possibili, ragazzi. Qua c'è il mio monetary. Le vorrei fare un altro di monetary, lo sapete? Quindi, spero che questo frutti tanti soldini. Credo che faccia soldi ogni minuto. Quindi spero che... Alla fine di questo video... ...diventeremo tanto, tanto ricchi. Soprattutto io. Davide, ma devi dormire. Sì, sì, devo dormire. Adesso dormo. Ho messo al... Ok. Alla fine la maggior parte dei video di Adopt Me è solo... Parlare, parlare, parlare. Perché alla fine Adopt Me è per gli amici che uno si mette a parlare mentre... Mentre giocano, cioè... Ok, mi hanno dato i soldini. Ok. E ho fame. Non mi mangiare. Sì, anch'io devo solo mangiare e poi sto a posto. Io devo bere. Anche in questo momento io avrei sete. Alla fine di sto video vado a tracagnarmi un bel po' di acqua. Qua vabbè, sta la televisione vorrei cambiarmela. Appena ho abbastanza soldi. Vediamo. Edithouse. Staff. Mettiamo TV. TV. Ecco. Vediamo. E questa è quella la Modern. Poi il Gabriele teneva la... Ah, e volendo me la posso mettere la Futuristic. Molto Futuristic. Io me la metto la Futuristic. Oh, ma è minuscola. Ma è minuscola. Che delusione, ragazzi. Che delusione. No, ragazzi, è una delusione. E' una delusione. E' una televisione così stima, ma è piccolissima. Devo prendermi la Modern. Ah, ok. La posso vendere al pezzo... A prezzo pieno. Quindi non... Non perdo niente. Devo... Ok, devo farmi la doccia. La prima, la la puoi sellare. La puoi sellare, la colisone. Sì, guarda, la Futuristic te la vende a prezzo pieno. Quindi stai tranquillo. Che te la vende a prezzo pieno. Allora, io mi vado a fare la doccia di sotto. Altri soldini. Ok. E me la faccio di sotto, la doccia. Anche se si siede. Ok, vediamo. Dirti... Ok, lì. Circa fatto. Ok. Allora, ragazzi, cercheremo di stare nei tempi, eh. Anche se sicuramente sforeremo un pochetto. Comunque io ho capito perché... Io faccio... Perché riesci a reggere, perché... Perché devo fare la doccia? Sì, io l'ho già fatta. Cioè, io faccio tutto subito. Devo andare a scuola. Andiamo a scuola. E chi deve mangiare il ciclo? E diamogli da mangiare. Chi do... Gli do le mele della maestra, gli do. Aspetta, sono davanti a casa tua, assoluto. Io sto andando già a scuola. Eh, io non ci sono a casa una. Io sono praticamente già a scuola. Perché io sono velocissimo. Ok? Poi devo abbandonare sempre la moto, perché... Se non mi baggo e quindi perdo un po' di tempo. Prezioso. Qua parte fra 20 secondi, però... Non mi serve. Ok? Qua... Ah, c'è la moto di Gabriele. L'ho capito perché è bella. Bleh. Qua c'è... C'è un unicorno. Infatti pure una... Una nostra amica ce l'ha l'unicorno. Vero, Gabri? Gabri! Gabri, sa che è lei? No, non è lei. Sono sicuro al 100%. Perché è offline. Stai solo tu dai miei amici. Qua c'è... Qua c'è Pico 200 che è l'altro account. Che lo uso per... Per... Come magazzino per Ninja Legends, praticamente. Dovete vedere quanti petto su... Sull'altro account, ragazzi. Ne ho tipo 200. Perché io accumulo. Cioè, ce li ho dall'inizio di Ninja Legends. Quelli iniziali, proprio... Quelli da 10 milioni. Quelli all'inizio di Ninja Legends, se li ricorderanno, però... Io ce li ho tutti là. Allora, ci siamo già a 15 minuti, Gabri. Fra un po', magari a 25. Porti in uno, ci voglio andare. No, è 20. 20? Gabri, è sì da scuola. Sto volando. Come stai volando? Come? E' questa. Ok, ce l'ho capito. Poi c'è un altro... C'è lo stesso unicorno. Allora, ragazzi. Io inizierei a fare il party. Gabri, questo mi diventa appassiato. Gabri, sì, andiamo a fare il party. Vai, facciamo il party. A casa mia, sempre. Che casa mia è bellissima. Gabri, vediamo chi è... Gabri, vediamo chi è arrivato prima. Eh, io sono già arrivato praticamente. Ok. Anch'io. Sono arrivato. Sono dentro. Ok, ragazzi. Gabri, sono arrivato anch'io. Aspetta, devo... Devo mettere... Devo fare il party. Trovo party. Verri. Ragazzi, metto sempre i stessi nomi perché mi scoccio a mettere nuovi nomi. Panni. Parti. Panni. Aspetta. Mi sono mangiato un anno. Panni. E un sacco di punti esclamativi. Start. Ok, Gabri, entra in casa. Ok, delle persone stanno arrivando. Ok, quindi sto sicuro che... Che ci sono... Ok, ho sete. Bevo. Ok, prima di spegnere il video controlliamo a quanto stiamo... A quanto stiamo per la... Con il... Con il monetree. Guarda, se ha fatto zero ma arrabbio proprio, eh. Se ha fatto tanto, ovviamente. Aspettiamo prima che arrivi un po' di gente e parte la musica. E... Adesso. Sì, ho fatto partire, ho fatto partire. Dance. 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 La musica, ma non partita. No, è partita. Sei tu che hai il volume a zero. Ora lo posso pure alzare. No, ce l'ho... No, è capito. Va bene, sei scemo tu, sei scemo tu. Forse hai il toltore. Qua posso cambiare il mio colore preferito, dono. Senti, senza uno. Perché? Ok, capri, capri. Adesso la sento. Capri. Aspetta che se stoppata la musica poi devi iniziare. Comunque speriamo che arriva in fretta la gente. Capri. Capri il video. Allora, ragazzi. Andiamo a vedere quanto mi dà il monitree. Speriamo qualcosa di decente perché se mi dà poco mi arrabbio proprio. Esplode tutto, esplode. Otto. Comunque, ragazzi, da questa delusione... E me... E... Da Super Gabriele... E... Saluta. Gabriele... Gabriele... Allora, ragazzi, da... Super Gabriele... E... Ciao, ciao, ciao... Ciao, ciao...